Buongiorno a tutti, come anticipato l'oggetto di oggi è l'analisi di queste linee guida dell'ANAC numero 9 di attuazione del codice dei contratti pubblici riguardanti il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato in corso di esecuzione, perché come sapete nell'ambito delle disposizioni che regolano i contratti di partenariato pubblico privato vi è anche la previsione che i soggetti pubblici che affidino questo tipo di contratti monitorino l'andamento per tutto il corso di durata e sulla base però di sistemi definiti e con modalità definite con una delibera che approvi linee guida specifiche da parte dell'ANAC. Questo è l'unico provvedimento attuativo dell'ANAC previsto espressamente nell'ambito della parte quarta del codice dedicata al partenariato pubblico privato, però vedremo poi che ci sono anche altri provvedimenti attuativi che incidono sulla disciplina di questi strumenti. Quindi adesso ne andremo a individuare i tratti essenziali tenendo conto che si tratta in ogni caso di un provvedimento di contenuto generico, quindi come vedremo poi nell'esposizione l'ANAC ha ritenuto di non accogliere e di non sviluppare alcuni dei rilievi e quindi di non adattare le linee guida che aveva già formulato in una prima bozza sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che aveva formulato talune osservazioni richiedendo anche una maggiore specificazione di alcune parti come quella relativa alla costruzione della matrice dei rischi, però giustamente su alcuni punti l'ANAC ha rilevato che se non si lavora sul caso concreto o almeno sul singolo settore infrastrutturale o relativo a un determinato ambito di servizi da erogare è difficile specificare più di tanto il contenuto. Quindi noi quello che faremo stamattina è analizzare il contenuto del provvedimento e vedere che adempimenti ne derivano, da subito per le stazioni appaltanti e come può essere indirizzata l'attività al fine di ottemperare e rispettare le linee guida in vista dell'entrata in vigore che ancora appunto non si è verificata, atteso che devono ancora essere pubblicate in gazzetta ufficiale. Quindi questi sono gli argomenti che andremo a affrontare che corrispondono poi alle diverse parti delle linee guida che si compongono di una parte di indicazioni e suggerimenti per appunto per divenire a una prassi ottimale, comunque buona di applicazione di questi istituti e di una seconda parte che invece è proprio vincolante, congente per le amministrazioni aggiudicatrici. Quindi l'ambito di riferimento, insomma corre l'obbligo di precisare in che ambito ci troviamo, le linee guida riguardano tutti i contratti di partenariato pubblico privato come definiti dall'articolo 3,1 lettera EEE del codice dei contratti pubblici del 2016 e seguenti modifiche integrazioni. Quindi sono tutti quei contratti le cui poi caratteristiche sono meglio specificate dall'articolo 180 del codice che si trova nella parte quarta espressamente dedicata al partenariato pubblico privato, tutti quei contratti con il quale uno o più amministrazioni aggiudicatrici affidano a uno o più operatori economici per un determinato periodo di tempo quantificato in funzione della durata, del tempo necessario a recuperare e ad ammortizzare l'investimento iniziale e a recuperare i costi sostenuti in funzione delle modalità di finanziamento prestabilite dallo stesso contratto, con cui su tali presupposti si affida un complesso di attività che possono consistere nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della disponibilità della stessa, ovvero dello sfruttamento economico e della fornitura dei servizi ad essa correlati con assunzione del rischio secondo le modalità individuate nel contratto da parte dell'operatore. Così dice da norma, ma ovviamente le modalità sono concordate e anzi sono modalità che dovrebbero essere molto indirizzate anche alla luce del provvedimento che stiamo analizzando, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nella definizione si dice anche che sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44,1 bis del decreto legge 248 del 2007, convertito con modificazione dalla legge numero 31 del 2008 e che si applicano le decisioni Eurostat a riguardo con riferimento a questi contratti. Quest'ultime tre righe che leggete sono quelle che oggi ci interessano, in particolare perché servono a comporre il quadro degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, o meglio delle amministrazioni aggiudicatrici quando affidano questo tipo di contratti. Perché la norma in questo punto fa riferimento all'obbligo che le amministrazioni aggiudicatrici hanno di comunicare a una struttura all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prima della soppressione nel 2015 era l'unità tecnica finanza di progetto, oggi le funzioni di questa struttura sono state assorbite dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che è appunto l'organo a livello centrale che acquisisce tutte le informazioni relative ai contratti di partenariato pubblico privato basati su che abbiano oggetto cosiddette opere fredde, cioè quelle la cui gestione è affidata al privato, è remunerata attraverso pagamenti effettuati prevalentemente dall'amministrazione aggiudicatrice, cioè dal partner pubblico, proprio al fine di monitorare la corretta allocazione dei rischi in funzione della corretta contabilizzazione on o off balance, cioè dentro o fuori il bilancio pubblico dell'investimento connesso appunto alla realizzazione di questo tipo di opere. Quindi vedremo poi che questo tema delle comunicazioni da fare ad organi centrali che sono appunto la Presidenza e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritorneranno perché sono di nuovo citati nel corso delle linee guida, perché appunto sono dei provvedimenti che questi provvedimenti legislativi che sono anche precedenti all'emanazione del codice dei contratti pubblici, sono presi come riferimento per il flusso informativo dei dati relativi a ciascun singolo contratto e che sono rilevanti in quanto sono dati la cui elaborazione consente di valutare l'impatto di questi contratti sulla contabilità pubblica. Allora andiamo avanti, quindi questo è il nostro quadro di riferimento. Come vi dicevo l'altra norma, la norma principale a cui noi facciamo riferimento per stabilire il contenuto di questi contratti è l'articolo 180 del codice dei contratti pubblici che prevede anche un elenco, un elenco non esaustivo di queste tipologie contrattuali, dicendo che vi rientrano le concessioni sia di lavori che di servizi, l'allocazione finanziaria di opera pubblica, il contratto di disponibilità e gli affidamenti in finanza di progetto. Sappiamo che con questo termine, con questa allocuzione si intendono tutti quei contratti che adesso possono essere anche contratti diversi dalle concessioni in seguito alle modifiche apportate dal decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, appunto tutti quei contratti di partenariato pubblico privato che sono affidati attraverso i particolari e complessi procedimenti disciplinati dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici che prevede due procedure, una ad iniziativa diciamo cosiddetta pubblica in cui si pone a base di gara il progetto di fattibilità dell'opera, ovvero una progettazione che può riguardare anche ovviamente servizi o altro contratto e poi una seconda procedura a iniziativa privata che può riguardare qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato e che appunto prende invece origine da una proposta di soggetti privati che propongono l'amministrazione di inserire determinati interventi proprio nei loro strumenti di programmazione dove li ritengano appunto fattibili. Perché vi dico questo? Perché la stessa ANAC con riferimento a queste linee guida appena appunto varate ha specificato nella relazione di analisi di impatto della regolamentazione che ovviamente sono destinatari diretti le amministrazioni pubbliche, ma gli operatori economici sono altresì destinatari indiretti delle indicazioni contenute nelle linee guida, perché come vedremo le linee guida stesse forniscono indicazioni anche vincolanti per esempio su come deve essere formulata l'offerta e sugli elementi che devono considerare le amministrazioni sin dalla fase propedeutica all'inserimento di alcuni interventi e delle relative modalità realizzative all'interno degli strumenti di programmazione. Quindi se un soggetto privato si vuole candidare a presentare una proposta di realizzazione di un intervento a un'amministrazione dovrà necessariamente tenere conto di tutti questi aspetti che sarebbero valutati dall'amministrazione stessa se fosse essa stessa appunto a iniziare la procedura. Quindi solo un promemoria appunto oltre siccome sono nei contratti di partenariato pubblico privato sono figura principe è la concessione di lavori e di servizi, ovviamente quando si pensa alla regolamentazione di questi contratti bisogna far riferimento a entrambe anche alla parte terza del codice, non solo alla parte quarta, che disciplina, che rega appunto apposite disposizioni per la disciplina delle concessioni e che deriva direttamente e che dalle direttive comunitarie, dalle direttive europee del 2014, perché appunto c'è questa differenza, io vi ricordo nel vecchio codice noi avevamo una parte dedicata alle concessioni di lavori soprattutto, perché le concessioni di servizi erano escluse dall'ambito di applicazione del codice e nell'ambito della disciplina delle concessioni di lavori era contenuta tutta la disciplina del partenariato pubblico privato, ora questo insieme di norme è stato trasposto integralmente, quasi integralmente nella parte quarta del codice dei contratti pubblici che rega una disciplina generale propria di tutti i contratti di partenariato pubblico privato, ma invece alla parte terza del codice c'è la disciplina delle concessioni di lavori e servizi che è trasposizione in attuazione delle norme delle direttive del 2014, in particolare della direttiva numero 23 e che appunto recepisce e attua tale direttiva, quindi le norme a cui farei riferimento, vi ricordo sono sempre queste relative alle due parti che spesso fanno diciamo anche in maniera forse non del tutto chiara, un rimando reciproco l'una all'altra quando invece le disposizioni per esempio di una parte non sono del tutto riprodotte nell'altra. Allora, per quanto riguarda l'iter di approvazione di queste linee guida, che vi ricordo solo brevemente, erano state, in realtà il primo schema di queste linee guida risale a circa un anno fa, poi sono state sottoposte al parere del Consiglio di Stato che appunto aveva formulato talune osservazioni, fra le quali anche l'indicazione dell'opportunità di sottoporre le linee guida proprio perché riguardavano molti aspetti anche di carattere economico e anche impattanti appunto sulla regolazione dei servizi, di sentire anche le autorità di regolazione, le autorità quindi indipendenti, competenti per i vari settori. Questo ci ricorda che è un settore in cui è molto importante l'integrazione e la collaborazione fra professionalità diverse, diciamo noi oggi esaminiamo queste linee guida e andiamo anche a toccare degli aspetti che diciamo non sono proprio, normalmente non tratta un avvocato ma c'è bisogno appunto dell'analista economico finanziario, dell'esperto di regolazione, quindi è un settore in cui è fondamentale appunto il colloquio fra varie professionalità ed expertise e è importante anche sapere quali sono i soggetti di riferimento per i singoli aspetti perché vedremo che a livello centrale oltre l'ANAC che si occupa della corretta attuazione del codice dei contratti pubblici, se dobbiamo vedere alle modalità di determinazione delle tariffe o alla regolazione del settore dobbiamo poi rivolgerci alle autorità competenti, per gli aspetti attinenti alla corretta contabilizzazione sono coinvolti il Ministero dell'Economia con la ragioneria generale e l'Istat e nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le strutture specialistiche che operano all'interno appunto del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica che offrono anche supporto alle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a tutti i problemi e a tutte le criticità che possono riguardare questo tipo di contratti. Allora, quindi dicevo, l'iter appunto è iniziato un anno fa ma è stato lungo perché è stato necessario sentire tutti questi soggetti e valutare le osservazioni fatte inizialmente dal Consiglio di Stato. Una sicuramente è stata accolta nel senso che il Consiglio di Stato aveva indicato poiché in realtà appunto le linee guida sono emanate in attuazione di una specifica disposizione del codice che è l'articolo 181,4 che appunto stabilisce che le linee guida dell'ANAC debbano specificare le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici che siano partner di contratti di partenere pubblico privato esplichino la loro attività di controllo e monitoraggio sul contratto stesso. Ma in realtà poi l'ANAC si è ovviamente considerando la complessità di queste operazioni ha ritenuto anche di fornire indicazioni rispetto a altre fasi della procedura e a strumenti appunto di gestione e elaborati che non rientrano propriamente, che non sono proprio previsti da questa norma che appunto affida all'ANAC questa funzione dell'emanazione di queste specifiche linee guida. Quindi il Consiglio di Stato ha detto all'ANAC di indicare specificamente quali parti delle linee guida siano emanate nell'esercizio delle proprie attività di indirizzo verso buone prassi e applicative del codice, ma non con carattere vincolante per le amministrazioni e quali invece formano proprio oggetto di un vincolo, di un obbligo che le amministrazioni sono tenute a rispettare e appunto che sono tenute a rispettare e che appunto riguardano appunto questa attività di monitoraggio, per cui le linee guida vedremo sono divise in due parti, che a dire non sono ancora entrate in vigore perché è necessario ancora che siano pubblicate sulla gazzetta ufficiale e che trascorrano 15 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale e si applicheranno ovviamente alle procedure avviate in seguito all'entrata in vigore, ma come anche precisato dalla stessa autorità avranno un impatto anche sui contratti in corso che appunto dovranno progressivamente adattarsi nei limiti del possibile, nel senso a un certo punto nella relazione di impatto sulla regolamentazione c'è scritto anche che laddove non sia possibile nel corso appunto del monitoraggio del contratto, sull'esecuzione di un contratto già in essere, laddove non sia possibile stabilire l'allocazione dei rischi, potrebbe essere possibile anche una revisione del regolamento contrattuale che magari porti a definire appunto degli allegati o degli atti aggiuntivi al contratto stesso, oppure appunto proprio perché tenendo conto delle necessità e degli obblighi derivanti dalla disciplina del partenerato pubblico privato, le stesse autorità di regolazione appunto emanino degli atti di regolazione che possano impattare magari anche in fase di adeguamento delle tariffe dei servizi anche appunto sui contratti in essere. Andiamo avanti, quindi questo l'abbiamo detto appunto, c'è una parte prima e una parte seconda, una parte prima che riguarda indicazioni volte a indirizzare l'amministrazione verso una corretta prassi applicativa di questi strumenti e che riguardano in particolare il processo di risk management e quindi tutte le analisi necessarie all'identificazione e all'accurata valutazione dei rischi connessi a questi contratti, a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara e la parte seconda invece che contiene proprio le prescrizioni sulle modalità di controllo delle attività svolte dagli operatori economici nel corso di esecuzione del contratto e che è vincolante, ma anche questa parte non riguarda solo la fase di esecuzione del contratto perché prevede tutta una serie di adempimenti che devono essere posti in essere dalle amministrazioni sin dalla fase di programmazione perché è da quella fase che si cominciano a predisporre poi gli strumenti che sono necessari all'eseguire il controllo successivamente e infatti mi riferisco a quanto risulta dal piano economico finanziario che adesso vedremo nei limiti di quello che c'è possibile e soprattutto il contratto e la famosa matrice dei rischi. Per tenere conto delle complessità che connotano questo tipo di operazione l'ANAC si preoccupa di dire che ovviamente tutti gli elaborati prescritti dalle linee guida devono essere controllati se non elaborati direttamente dal responsabile unico del procedimento che però dovrebbe essere affiancato da figure professionali che possano coadiuvarlo in quanto appunto è in grado di comprendere gli aspetti anche di analisi economico finanziari all'impatto contabile ovvero addirittura che siano in grado di fare anche delle valutazioni di convenienza sul ricorso al partenerato pubblico privato proprio sulla base di metodiche di misurazione e di rilevazione dei rischi tipici connessi a ogni operazione che si pone in essere. Quindi dato appunto che è richiamata la centralità della figura del responsabile del procedimento e appunto alla corretta individuazione delle competenze che tale figura deve possedere per gestire un'operazione di questo tipo, abbiamo messo appunto fra la documentazione che può essere utile e che è collegata all'oggetto dell'esposizione di oggi anche la delibera, anche le linee guida numero 3 dell'ANAC sui compiti del responsabile del procedimento perché lì appunto si sono esemplificate come voi saprete penso molto bene anche le caratteristiche professionali, il tipo di qualificazione professionale che è richiesta al responsabile del procedimento in considerazione del tipo di contratto da affidare e dell'importo del contratto stesso. Stesso discorso vale per anche l'individuazione della figura del direttore dei lavori o del direttore delle esecuzioni del contratto perché le amministrazioni e giudicatrici dovranno comunque individuare delle idonee professionalità al fine dello svolgimento delle attività richieste, potendo valutare anche un'attività di formazione ad hoc e l'opportunità di istituire un vero e proprio ufficio a supporto del RUP o del direttore e ufficio di direzione dei lavori. Ovviamente queste valutazioni devono essere fatte sia il rapporto alla ripartizione dei compiti inerenti alla singola procedura di affidamento fra stazione appaltante e amministrazione committente, quindi se ci sono dei soggetti aggregatori o c'è una centrale di committenza, vanno ripartiti i compiti e anche sulla base delle apposite convenzioni che legano le amministrazioni e giudicatrici a questi soggetti va capito chi deve fare cosa al fine di incaricare soggetti che abbiano le adeguate professionalità anche conferendo gli incarichi all'esterno. Questo sia per quanto riguarda l'attività preliminare preordinata all'inserimento dei lavori e degli interventi in programmazione perché andrà fatta un'elaborazione come quella che veniva fatta nel vecchio studio di fattibilità, ora nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, nel documento di fattibilità economica, insomma nei nuovi atti che precedono la programmazione e che sono indicati a grosse linee non solo nel codice ma anche nell'ultimo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Gennaio, il numero 14 di Gennaio 2018 dove appunto ci sono gli schemi e procedure per i programmi relativi aggiornamenti dove appunto sono anche date delle indicazioni sul fatto che come sotto l'agenza del precedente codice deve essere data la priorità a questo tipo appunto nell'ambito in ordine di attuazione alle operazioni realizzate in partenariato pubblico privato, è data anche la possibilità di valutare laddove ci siano delle opere incompiute la possibilità di affidare in partenariato pubblico privato previa ovviamente analisi di fattibilità da parte dell'amministrazione e diciamo e comunque ecco in attesa anche di quanto sarà detto quando uscirà dal decreto sui livelli di progettazione perché diciamo perlomeno già nello schema si vedeva quali erano appunto i contenuti che avrebbe dovuto avere il progetto di fattibilità e le successive evoluzioni ma appunto anche questi sono documenti dei quali bisognerà tenere conto in questo percorso. Per adesso questo decreto ancora non c'è quindi vale quello che ci siamo detti. Allora quindi entriamo nel merito delle linee guida e che altro c'è? Un'altra da dire ancora ab origine per presentare il documento perché oltre appunto ad attuare il codice l'autorità nell'analisi di impatto della regolamentazione dice anche che parte anche con una breve disamina, analisi del mercato di riferimento e spiega che analizza anche aspetti ulteriori rispetto al monitoraggio in corso di esecuzione perché l'analisi di mercato di questa operazione ha rilevato, fa rilevare quindi un'alta mortalità delle operazioni, cioè c'è una grossa richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e quindi si rileva insomma a partire da quando, insomma ormai 15 anni fa quando abbiamo iniziato a usare questi strumenti che rispetto alle procedure avviate c'è un'alta mortalità, cioè soltanto addirittura quasi credo un importo sia per un numero che per importo insomma poco superiore alla metà perviene alla fase di aggiudicazione, quindi l'autorità appunto si propone di ridurre il tasso di mortalità di queste operazioni attraverso una migliore regolamentazione, si propone di fornire degli indirizzi che possano consentire all'amministrazione aggiudicatrice di conseguire effettivamente i benefici che si aspettano da questo tipo di operazioni che spesso appunto poi non danno i risultati attesi e di garantire appunto un efficiente monitoraggio anche nel caso appunto per quanto riguarda la contabilità. Quindi monitorando tutti i dati che adesso andiamo a vedere l'autorità poi darà un primo feedback sui risultati attesi, sul raggiungimento di questi risultati nel triennio, ben sapendo però che sono processi che richiedono lungo tempo e quindi insomma probabilmente non si potrà dare un riscontro effettivo dei risultati conseguiti dall'applicazione delle linee guida. Quindi veniamo alla prima parte, questa è una parte in cui l'ANAC dà delle indicazioni operative, non sono molto differenti da quelle che stavano nel primo schema di linee guida e dalle indicazioni che l'ANAC ha dato diverse volte con riferimento ai contratti di partenariato pubblico privato sia nel 2009 che poi nel 2015, anche da ultimo, prima dell'entrata in vigore del codice. Quindi innanzitutto le amministrazioni devono diventare dei manager, cioè devono poter gestire il processo di gestione dei rischi che si compone di varie fasi, come adesso vedremo. i rischi devono essere identificati con riferimento a ciascun singolo caso concreto e valutati, cioè nella loro incidenza economica sull'operazione e allocati, cioè attribuiti, la gestione del rischio deve essere attribuita al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi. E come si fa? Verificando la possibilità di ciascuno dei partner pubblico e privato di adottare misure idonee a ridurre gli effetti negativi di questi eventi al fine di valutare la capacità e valutando appunto la capacità di gestione del rischio. Quindi che vuol dire? Il rischio innanzitutto è un evento, per rischio si intende il verificarsi di un evento futuro e incerto che è in grado di avere un impatto economico sull'operazione, perché ad esempio appunto crea un ritardo nei tempi di costruzione, impedisce l'erogazione del servizio, quindi c'è uno dei due partner che deve attivarsi e sostenere i costi di questo evento incerto che interviene una volta che il contratto è stato stipulato. Ci sono dei rischi poi che intervengono anche nella fase di programmazione oppure nella fase propedeutica appunto alla preparazione degli atti di gara, ma quelli l'amministrazione deve gestire in casa, però ci sono, l'ANAC dice ci sono e devono essere valutati anche questi. Quindi vale la pena come fa l'ANAC di ripercorrere le categorie di rischio. L'ANAC si apre l'atto, quest'atto di regolazione, questo provvedimento di attuazione del codice riprendendo le categorie generali di rischi e dicendo appunto che innanzitutto riprende le definizioni del codice e le specifica un pochino, perché come sappiamo il nostro codice dei contratti pubblici a differenza delle direttive europee che provvedono solo il rischio operativo e lo definiscono, la direttiva 23 del 2014 e abbracciano, contemplano anche delle previsioni che non sono tanto norme giuridiche, ma anche richiamano concetti di natura economica, proprio in funzione della necessità di attribuire correttamente il rischio di gestione, ora detto anche rischio operativo al concessionario e in qualche misura anche in generale ai partner privati dei contratti di partenariato pubblico privato e anche di indirizzare verso un'allocazione dei rischi che consenta una contabilizzazione fuori bilancio pubblico degli investimenti connessi appunto a questo tipo di contratti, quando hanno ad oggetto un'opera pubblica. Vi dico anche un'altra cosa su questo, perché è stato chiesto, siccome le linee guida sono anche state sottoposte, lo schema di linee guida a consultazione, gli operatori che hanno partecipato alla consultazione hanno chiesto all'autorità di chiarire se i contratti di concessione potessero essere utilizzati anche con riferimento ad operazioni in cui si affida la costruzione e la gestione di un'opera cosiddetta fredda, cioè in cui è l'amministrazione che usufruisce dei servizi connessi all'opera, della quale è utilizzatrice diretta e nel quale quindi l'amministrazione è il partner pubblico, la principale fonte di remunerazione del partner privato. Siccome appunto era stata, dopo l'entrata in vigore del codice, c'era un'addizione dell'articolo 164 del 165 del codice dei contratti pubblici che prevedeva che il concessionario è un partner privato che però è remunerato sulla base di criteri di mercato, questa previsione aveva fatto dedurre agli interpreti della norma e quindi anche nella pratica aveva indotto le amministrazioni a qualificare come contratti di concessione quelli aventi oggetto le opere calde, quindi quelle ripagate attraverso tariffe o altro tipo di corrispettivi pagati dall'utenza, quindi da terza rispetto all'amministrazione, qualificando come invece partnerato pubblico privato tutti gli altri contratti basati appunto in cui il partner privato è ripagato e remunerato attraverso un cano di disponibilità. Ecco l'ANAC in proposito ha chiarito, anche se poi questo non è un aspetto che ha impatto sulla sostanza degli istituti perché non ha molto rilievo come viene qualificato il contratto, ha chiarito che le concessioni poiché sono contratti di partenariato pubblico privato e presentano tutte le caratteristiche di tali contratti che possono appunto anche prevedere che l'operatore economico privato sia remunerato con un canone a fronte della disponibilità dell'opera, purché assuma oltre al rischio di costruzione anche il rischio di domanda o disponibilità dell'opera stessa e dei servizi ad essa correlati, ecco posto che queste sono caratteristiche ed elementi propri di tutti i contratti di partenariato pubblico privato, anche le concessioni possono avere ad oggetto un'opera fredda come era sotto il previgente codice. L'autorità poi dice anche un'altra cosa che non è insomma molto chiara perché dice che gli operatori che hanno partecipato alla consultazione hanno chiesto di specificare se una mancata corretta allocazione dei rischi porti a una riclassificazione del contratto e in che modo, posto che questo insomma deriva dal fatto che il nostro codice appunto recepisce regole che sono anche proprio della contabilità pubblica e dice i contratti di partenariato pubblico privato devono seguire le regole di arrocazione dei rischi di Eurostat e pone poi una serie di altre condizioni perché effettivamente si possa realizzarsi la contabilizzazione fuori bilancio, per esempio mettendo un limite al contributo pubblico in conto di capitale, come sappiamo il contributo pubblico in conto investimento non può essere superiore al 49% dell'investimento complessivo. L'ANAC dice che nonostante a livello europeo non ci siano queste prescrizioni, il nostro codice le recepisce quindi nel caso in cui, quindi dice le linee di guida riguardano la corretta allocazione dei rischi e indicando fra l'altro come adesso vedremo e come abbiamo già detto che i rischi dovrebbero essere allocati sulla base del criterio del contraente che meglio li sa gestire. Dopodiché dall'allocazione dei rischi deriva il rispetto o meno delle previsioni delle direttive di Eurostat sulla contabilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato e se non sono rispettati il contratto deve essere riqualificato con mappalto. Ovviamente non è l'ANAC a valutare questo aspetto ma è l'ISTAT e in qualche misura anche il Ministero delle Economie e delle Finanze, però ecco c'è questa complessità di base per cui noi in Italia dobbiamo gestire entrambi gli aspetti, perché di base in linea tendenziale ci si aspetta il legislatore a posto delle norme aspettandosi che questi contratti siano posti fuori bilancio, anche se poi il trattamento contabile stabilito dalle regole del manuale sul debito e sul deficit, gli ulteriori aggiornamenti ci dice che appunto non sempre, ci dice quali sono le condizioni alle quali questo si può verificare. Quindi ritorniamo, questo per dire cosa? Che appunto che le concessioni possono anche avere ad oggetto secondo l'ANAC appunto contratti riguardanti l'affidamento della realizzazione e gestione di opere fredde, quindi in cui il partner privato è remunerato con canoni di disponibilità e principalmente sulla struttura delle concessioni è ritagliato la figura del rischio operativo che appunto è declinato dalla direttiva numero 23 del 2014 proprio con riferimento ai contratti di concessione. Rischio operativo che consiste appunto dal fatto che il partner privato debba addossarsi con le conseguenze economiche derivanti da fattori anche al di fuori del controllo delle parti e quindi deve essere soggetto alle oscillazioni del mercato e quale rischio complessivo in cui rientrano, categoria complessiva in cui rientrano anche i rischi di costruzione, domanda e disponibilità. Ora anche su questo diciamo un rischio, se rientrano queste categorie di rischi diciamo in linea di massima questo rischio operativo dovrebbe essere attribuito anche al partner di un contratto di parteneriato pubblico privato genericamente inteso non soltanto alla concessione e questo hanno fatto osservare i soggetti che sono intervenuti nelle consultazioni, ma qui l'autorità diciamo è stata vaga, ha detto sì in effetti questo rischio ricomprende questi altri che sono proprio di tutti i contratti di parteneriato pubblico privato, però si parla di rischio operativo con riferimento alle concessioni e noi insomma prendiamo atto. Quindi dopodiché l'autorità appunto riprende le definizioni del codice specificando alcuni elementi del specie con riferimento al rischio di disponibilità e quindi rispetto al rischio di costruzione dice appunto che deve comprendere tutti i rischi che si verifichino in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera e in particolare gli errori progettuali, le conseguenze economiche derivante dagli errori progettuali, l'esecuzione dell'opera di forme rispetto a quanto previsto inizialmente, un aumento di costo dei fattori produttivi o dovute a una inadeguatezza o errata valutazione dei costi e dei tempi appunto di esecuzione dell'opera, derivanti anche da inadempimenti dei sub fornitori e dei sub appaltatori in questa fase e anche inadeguatezza e inaffidabilità della tecnologia utilizzata, per esempio rispetto appunto agli impianti che ne so per esempio di smaltimento di rifiuti e quindi tutti questi eventi e le conseguenze economiche dovrebbero essere allocate in capo al contraente privato, perché il rischio di ricostruzione comunque è un rischio che sempre deve gravare sul contraente privato, unitamente a uno degli altri due rischi in maniera alternativa di domanda o di disponibilità. Rispetto al rischio di domanda l'autorità ci specifica che non può dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico, cioè quello è un inadempimento contrattuale, normalmente bisognerebbe fissare come si fa rispetto ai servizi che sono più inerenti al rischio di disponibilità, anche per il rischio di domanda bisogna distinguere appunto i rischi, ciò che pertiene alla corretta esecuzione del contratto e quindi il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale, dà il rischio di impresa, il rischio di gestione che deve comunque sopportare l'operatore economico, cioè il rischio che è riconducibile sia una contrazione della domanda di mercato di quel determinato servizio che è affidato e quindi una diminuzione della domanda in generale rispetto a quel settore economico, ma sia nonché anche la diminuzione della domanda specifica, magari perché c'è un altro operatore concorrente i cui servizi sono preferibili dall'utenza, quindi questo è un rischio che l'operatore economico si deve accollare, perché è un rischio tipico imprenditoriale. Di regola specifica l'ANAC, questo richiama anche altre determinazioni che sono intervenute precedentemente come quella che ha riguardato l'affidamento in partenerato pubblico privato in concessione di servizi, per esempio degli asili nido, dice di regola non è presente se il rischio di domanda non è trasferito, se l'utenza finale non ha libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi, quindi questa è una modifica che l'ANAC deriva direttamente da regole prefissate anche in sede di MGDD, il manuale del deficit e del debito pubblico di Eurostat, che comprende anche, che specifica anche il trattamento contabile in funzione della ripartizione dei rischi delle operazioni in partenariato pubblico privato. Con riferimento al rischio di disponibilità, anche qui l'ANAC fa alcune precisazioni, sempre sollecitata dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione e appunto dicendo che non si tratta solo di rischio di performance, principalmente ovviamente si tratta di rispettare gli standard di quantità e di qualità previsti per i servizi connessi alla disponibilità dell'opera e appunto comportando che il canone che l'amministrazione versa a fronte della disponibilità dell'opera sia effettivamente proporzionato alla qualità e alla quantità del servizio erogato dall'operatore economico privato, potendo anche essere azzerato in caso di indisponibilità totale dell'opera. Ma appunto comprende anche altre voci, come ad esempio i rischi di manutenzione straordinaria, non preventivata, anche queste occorrenze che rendono l'opera indisponibile e che devono essere oggetto di gestione e di controllo da parte dell'operatore economico privato. Per quanto riguarda la performance, l'autorità fa riferimento alla necessità di stabilire in contratto dei key performance indicators, cioè la performance non deve essere solo descritta qualitativamente, ma anche quantitativamente nel senso di numero di operazioni, effettivamente di servizio, numero di attività, di azioni riconducibili a un determinato servizio effettivamente erogato, numero di prestazioni suddivise per quantità, suddivise per tipo specifico, ma anche deve essere misurata, cioè la performance e qui appunto si richiamano dei concetti di economia aziendale e di cui la necessità appunto di fare riferimento a figure tecniche qualificate deve poter essere misurata, perché poi appunto questi misuratori dovranno essere riportati non tanto nel contratto, ma negli allegati del contratto di partenariato pubblico privato, concessione o altro contratto e quindi nei capitolati che regolano i vari servizi, perché appunto questo è un altro motivo per cui l'autorità poi come vedremo non ha specificato dettagliatamente per esempio le clausole contrattuali che servono a ripartire un determinato, ad allocare un determinato rischio, perché il regolamento contrattuale in realtà si compone appunto del contratto principale, ma poi di tutti gli allegati e soprattutto con riguardo al rischio di disponibilità rilevano ovviamente, si fa riferimento e il contratto dovrà rinviare i capitolati prestazionali che regolano la prestazione di ogni singolo servizio relativo all'opera. Quindi, esemplificando, il rischio di costruzione a contrario non può ad esempio considerarsi trasferito come prescritto se l'amministrazione si obbliga a corrispondere al partner privato delle somme stabilite in contratto e si parla di solito di contributo pubblico, senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'opera è consegnata, oppure senza fare riferimento a effettivi stati di avanzamento lavori, oppure nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni o eventuale costo aggiuntivo, indipendentemente dalla relativa causa. Per esempio, quando ci sono delle varianti che non siano entro un certo limite, dovranno essere sopportate dall'operatore economico privato e così anche eventuali rischi e di eventi che possano occorrere in fase di esecuzione dei lavori, soprattutto con riferimento magari a, bisogna porre attenzione soprattutto anche agli errori progettuali che potranno, appunto che di solito spesso sono accollati dall'amministrazione. Il rischio di disponibilità non può considerarsi trasferito qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla quantità delle prestazioni erogate, questo è quello che dicevamo poc'anzi e il contratto non preveda un sistema di applicazione automatica di penali che siano in grado di incidere significativamente sui ricavi e i profitti dell'operatore economico e oppure anche quando il canone di disponibilità risulti sovrastimato annullando così l'assunzione del rischio, cioè anche qui questo concetto richiama la necessità di saper valutare i valori inseriti nel piano economico finanziario e la misurazione, appunto, gli importi necessari alla copertura dei costi e all'equa remunerazione del partner privato, inseriti sia appunto nel contratto ma soprattutto nel piano economico finanziario, quindi questo deve essere correttamente valutato e deve essere anche valutato nel caso in cui l'amministrazione riceve una proposta privata da parte di un privato, ma nel caso in cui l'amministrazione invece provveda a sa stessa inserire l'intervento nei documenti di programmazione, questa quantificazione, quindi questa identificazione del canone che è sufficiente a remunerare il concessionario coprendo i costi e quindi deve essere ben valutata e stabilita. Con riferimento al rischio di domanda, come dicevamo prima, rispetto al quale l'autorità fa delle precisazioni, non si può considerare trasferito all'operatore economico privato se l'amministrazione si obbliga ad assicurare all'operatore economico determinati livelli di corrispettivo, indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utelenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti dell'operatore economico. Anche in questo caso la remunerazione del partner privato deve essere soggetta al rischio di flessioni della domanda, altrimenti vuole dire che l'amministrazione in questo caso garantisce qualcosa e incidendo così sulla corretta ripartizione dei rischi. Il rischio di domanda è anche annullato quando per esempio negli atti di programmazione, quindi nei documenti che l'amministrazione pone a base di gara o nel piano economico finanziario, la domanda finale è sottostimata e quindi l'equilibrio economico finanziario magari è raggiunto attraverso un corrispettivo che è troppo alto rispetto all'effettiva struttura sottostante dell'operazione economica. Quindi in questo caso quello che si verifica è che le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. quindi che cosa a fronte di questa possibilità che è stata posta all'attenzione dell'ANAC soprattutto dalle autorità di regolazione, specie appunto dalla guarda di regolazione dei trasporti che soprattutto sull'analisi della domanda appunto è insomma dato il settore di cui ha competenza e ha particolare esperienza, ha suggerito appunto come anche già altre volte suggerito dall'ANAC in ogni caso rispetto ai contratti di parteneriato pubblico privato di inserire in ogni caso nel contratto delle clausole volte a scongiurare appunto il verificarsi di casi di extra riditività per l'operatore economico privato e quindi per esempio prevedere delle variazioni nella durata del contratto, cioè se appunto le previsioni della domanda sono sottostimate ed è previsto un tempo di recupero degli investimenti troppo lungo nel momento in cui l'amministrazione e l'operatore economico privato dovendo misurare periodicamente l'andamento della gestione e la riditività della gestione dovessero riscontrare che appunto l'ammortamento dell'investimento si è verificato prima, anzitempo, in questo caso il contratto potrebbe essere rivisto sotto l'aspetto della durata, oppure quando appunto si riveli una extra riditività si possono prevedere delle forme di profit sharing fra privato e amministrazione aggiudicatrice, oppure altresì con gli utenti del servizio, magari abbassando la tariffa di utilizzazione. Poi l'ANAC dice che queste sono le categorie principali di rischio, ma le altre che necessariamente l'operatore economico dovrà valutare sono tutti questi altri, da notare che appunto i rischi contrattuali possono essere suddivisi come anche l'ANAC dice, per comodità possono essere suddivisi con riferimento alle fasi di sviluppo del progetto, dell'iniziativa in parteneriato pubblico privato, infatti abbiamo prima seguito il rischio di costruzione e poi quello di disponibilità e di domanda che sono rischi operativi, tipici della fase operativa. Poi ci sono tutti questi altri rischi di cui alcuni sono appunto riconducibili magari più chiaramente a una delle fasi, di queste principali fasi di sviluppo del progetto, altre invece sono rischi trasversali che possono verificarsi in qualsiasi fase di sviluppo del progetto. Quindi andiamo a vedere quali sono, sono il rischio di commissionamento e cioè il rischio che l'opera possa non ricevere il consenso da parte di altri soggetti pubblici o delle comunità territoriali interessate, quindi questo genera ritardi soprattutto o con riferimento alla fase di programmazione dell'opera e quindi è l'amministrazione in quel caso che deve appunto gestire questo procedimento a monte di tutta la procedura oppure in fase di esecuzione dei lavori e questo ovviamente impatta sui tempi e che correttamente non essendo però un fenomeno gestibile da parte dell'operatore privato. Il rischio amministrativo è quello appunto connesso appunto ai ritardi dovuti appunto ai tempi necessari all'acquisizione di tutti i pareri, quindi questo è anche un tipo di pareri e nulla osta connessi all'esecuzione, all'approvazione dell'opera e anche questo è un rischio che tipicamente si accolla all'amministrazione come vedremo poi e appunto deve essere gestito, normalmente c'è appunto questo, ci sono anche delle norme della legge sul procedimento amministrativo, quelle sulla conferenza di servizi che servono proprio appunto a mitigare il rischio che poi si parta con dei lavori il cui progetto non è idoneo a ricevere nei tempi previsti tutte le approvazioni. Il rischio ambientale e archeologico, cioè questo è un rischio che impatta, che è legato alle condizioni del terreno, alla necessità di bonifica, ai reperti che si possono rinvenire in corso di esecuzione dei lavori, anche questo va valutato come impatto, a volte può essere previsto e quindi può essere allocato in capo all'una o all'altra parte del contratto, non necessariamente in capo al partner pubblico. Il rischio di finanziamento pertiene alla mancato reperimento delle fonti di finanziamento da parte del partner privato e quindi c'è il partner privato che ovviamente come sappiamo in base al nostro codice contiene tutta una serie di disposizioni relative anche che ovviamente dipendono dal fatto che in questo tipo di contratti le fonti finanziarie necessarie ad affrontare l'investimento iniziale da parte del privato sono reperite con il ricorso al credito bancario oppure all'emissione di titoli obbligazionari, ma nel caso in cui il contratto di finanziamento o la copertura o la collocazione di tutti i titoli non intervenga entro un certo lasso di tempo, questo genera che comunque non può essere superiore a 18 mesi secondo il nostro codice, ma che in questo lasso di tempo comunque ha un proprio impatto economico, nel caso di ritardo dovuti all'efficoltà nel reperimento dei finanziamenti, anche questi sono costi che bisogna decidere chi sopporta e in genere è un rischio, un costo che dovrebbe sopportare il partner privato. Il rischio finanziario è il rischio che anche questo, a meno che non si tratta di un rischio sistemico, come potrebbe essere quello della crisi che è partita dal 2008 e che ora è in fase di mitigazione se non risoluzione, è un rischio che si deve accollare il partner privato riguardando il rischio di fluttuazioni in senso sfavorevole del tasso di interesse del prestito bancario. Poi ci sono i rischi, l'altro rischio, menzionato dall'autorità, il rischio di relazioni industriali, cioè tutti sia dei soggetti derivanti dai rapporti che si staurano fra i soggetti che devono eseguire l'opera, facciano essi parte sia della compagine societaria, della società di progetto che è partner privato, proprio parte contrattuale, sia che si tratti di, però secondo me anche di altre imprese che debbono svolgere parte delle prestazioni come subcontraenti. Rischio di obsolescenza tecnica, cioè il rischio che gli impianti, le infrastrutture realizzate dal privato diventino obsolete, quindi non più attuali, non più utilizzabili agli scopi ai quali servono e questo appunto è un rischio che abbiamo visto che spesso il partner privato non può sopportare perché è troppo, cioè non può comportare un costo troppo elevato che poi si ripercuote anche sul canone pagato dall'amministrazione, questo abbiamo visto è così nel caso di affidamento nell'ambito di infrastrutture, della costruzione e gestione di infrastrutture ospedaliere, determinati impianti e macchinari possono essere anche forniti dal privato, ma poi un aumento di costo dovuto a obsolescenza tecnica difficilmente potrà essere appunto sopportato dal privato a meno che appunto il contratto non sia particolarmente congegnato, così anche abbiamo visto che in tanti nei casi che riguardavano l'infrastrutturazione, la gestione delle infrastrutture che saranno per il collegamento internet, quindi le reti, la fibra, banda larga eccetera, anche in quel caso quello proprio a livello europeo è stato rilevato che appunto l'amministrazione ha sopportato molte volte questo rischio di obsolescenza tecnica che è particolarmente diciamo incidente in quel settore, mentre invece per esempio come vedremo quando si tratta di efficientamento energetico in quel caso è buona prassi che sia il contrente privato appunto che sia gestibile appunto rientrando proprio nelle tipiche prestazioni legate all'efficientamento energetico per esempio negli impianti di illuminazione pubblica. E poi il rischio di interferenze, cioè il rischio di interferenze legate a sotto servizi o a sopra servizi, cioè tutte le reti attraverso le quali sono veicolati e derogati altri servizi diversi da quelli connessi alla specifico affidamento di cui appunto oggetto di analisi e questo rischio di interferenza appunto ci può essere sia in fase di realizzazione dei lavori, ma anche in fase di erogazione del servizio. Poiché appunto la corretta allocazione dei rischi di contratto è definita dal codice come uno dei presupposti dell'equilibrio economico finanziario, l'autorità dà anche delle indicazioni contenute sempre nella parte prima delle linee guida, quindi non vincolante ma comunque indicazioni di cui tenere conto e quindi dà delle indicazioni anche sul procedimento di revisione del piano economico finanziario, perché anche questo è un evento che può accadere in corso di esecuzione del contratto e quindi deve rilevare ai fini del monitoraggio. La revisione del contratto ricordiamo che per espressa disposizione normativa contenuta sia nell'articolo 181 che 165 del codice, con riferimento quindi sia generale ai contratti di partenariato pubblico privato che di concessione, deve comunque garantire la permanenza della iniziale allocazione dei rischi in capo alle parti del contratto e potendo la stessa revisione a essere sottoposta al NARS, cioè al nucleo di valutazione sull'attuazione delle tariffe inerenti ai servizi non soggetti a regolazione da parte di specifiche autorità che si trova all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nel citato Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, al controllo del quale devono essere obbligatoriamente sottoposti le revisioni dei piani economico finanziari in cui c'è un contributo a carico dello Stato. Sappiamo poi che in caso di mancato accordo sul riequilibrio, scusate mi sono caduti tutti i fogli che avevo qui accanto, le parti possono recedere dal contratto, quindi questo è un aspetto molto importante di cui tenere conto nell'ambito anche dell'attività di monitoraggio dell'amministrazione in corso di esecuzione del contratto. Vi richiamo questi concetti che il codice prevede perché l'autorità, l'ANAC, si preoccupa di specificare quali sono le grandezze che misurano l'equilibrio economico finanziario, sappiamo che l'equilibrio economico finanziario è dato dall'incontro, dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza e sostenibilità economico finanziaria della gestione. La convenienza allude alla redditività, alla capacità del progetto di creare reddito, un reddito adeguato a remunerare il capitale investito. La sostenibilità finanziaria allude invece alla capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti. Quindi queste due grandezze, una si preoccupa della redditività in generale per l'operatore economico e l'altra invece della possibilità di garantire il rimborso del capitale preso in prestito dalle banche, questi due concetti sono espressi in grandezze, cioè in indicatori economici che devono poter esprimere il valore della redditività e della sostenibilità finanziaria di un progetto in tutte le fasi di esecuzione dello stesso. Questi valori sono appunto indicati, sono valori che possono far riferimento quindi con riferimento alla, devono essere esposti nel piano economico finanziario che è parte del contratto e come era anche d'altronde stabilito nel vecchio codice dei contratti pubblici all'articolo 143 in seguito a successive modifiche, mi pare di ricordare, del 2012 e che sono stati appunto ripresi in sede di, in questo caso dall'ANAC e sono appunto grandezze che devono figurare all'interno del piano economico finanziario e devono poter essere valutate e misurate dalla stessa amministrazione, quindi da qui si richiama la necessità di ricorrere a un supporto degli esperti. Io ora, siccome non abbiamo il tempo necessario, non vi sto a leggere le definizioni, comunque grossomodo la redditività fa riferimento agli indicatori della capacità del progetto investimento di generare ricchezza che possono essere il tasso interno di rendimento del progetto oppure il tasso di rendimento interno del progetto nei confronti dell'azionista, quindi il tasso, il TIR oppure il TIR dell'azionista, oppure il valore attuale netto del progetto, appunto che indica il valore creato o disperso dal progetto nel periodo di tempo in cui si sviluppa il contratto, che anche esso può essere riferito al progetto nel suo insieme o all'azionista, mentre invece la sostenibilità finanziaria è misurata da indicatori come il Debt Service Cover Ratio, DSCR, che rappresenta il rapporto fra flusso di cassa disponibile in un determinato periodo di tempo e il servizio del debito, cioè l'importo di capitale interessi che deve essere corrisposto all'istituto finanziatore, oppure un altro indicatore che è il Loan Life Cover Ratio, che esprime lo stesso rapporto ma con modalità diverse, che non vi sto io a spiegare, ma questi sono gli indicatori che l'autorità suggerisce di adottare alle amministrazioni aggiudicatrici che è in sede di piano economico finanziario e potendosi far susportare per capire quando questi indicatori esprimano le grandezze adeguate per rappresentare un equilibrio economico finanziario che rappresenti a sua volta un'adeguata allocazione dei rischi, di poter fare riferimento ai benchmark stabiliti dal citato Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale l'amministrazione può chiedere quindi assistenza, perché all'interno di quel Dipartimento ci sono le professionalità proprio dedicate a questo scopo, oppure alle autorità di regolazione. Vediamo, infatti qua vi ho citato, tanto per avere un esempio, ho preso questa slide proprio dagli atti del convegno di esperti che fanno parte di questo Dipartimento e che possono fornire supporto alle amministrazioni che debbano avviare i progetti. Vediamo, qui il grafico rappresenta semplicemente l'incidenza dei rischi che si possono verificare nelle varie fasi di svolgimento e di sviluppo del progetto, vediamo che il picco c'è alla fine della fase di costruzione e quando l'opera deve essere collaudata, perché storicamente anche come abbiamo visto statisticamente e come dimostrano anche una delle ultime rilevazioni dell'AN, con riferimento ai contratti di appalto e non di partenariato concessione, ma di appalto, alla fine è molto incidente il ricorso alle varianti, alla difformità rispetto alle caratteristiche tecniche o specifiche tecniche richieste nei documenti di gara e quindi prima della fase di avvio si manifestano diverse variazioni e quindi incidenza di nuovi costi, maggiori costi che bisogna decidere a quale delle parti contrattuali allocare e se questo è già stabilito nel contratto ovviamente stiamo un passo avanti. Quindi questo è quello che vi ho detto, sono gli adempimenti alle quali l'amministrazione deve fare riferimento, quando si prepara il piano economico finanziario da porre a base di gara bisogna fare riferimento a questi indicatori della sostenibilità economico finanziaria, quindi sia redditività, sia convenienza economica che sostenibilità finanziaria che deve essere misurata all'inizio e misurabile in corso di esecuzione del contratto, quindi ove necessario bisogna fare riferimento a questi organi che possono aiutare l'amministrazione aggiudicatrice e appunto sono valori che devono essere presi a riferimento durante tutte le fasi di sviluppo del progetto perché un discostamento da essi è indice della necessità o della possibilità di rivedere il piano economico finanziario, sia a favore del partner privato che a favore del partner pubblico. L'altra indicazione che dà l'autorità nazionale di anticorruzione è quella di esemplificare le cause di forza maggiore, anche le cause di forza maggiore sono eventi che possono verificarsi in corso di durata del contratto e incidere sul costo del contratto, addirittura sulla possibilità stessa che il contratto possa essere portato avanti e in questo caso sono rischi che per definizione non possono rientrare nel controllo di nessuna delle parti contrattuali e proprio perché il costo di entrambi, le conseguenze economiche di questi eventi deve essere sopportata, deve ricadere su tutte e due le parti del contratto necessariamente perché sono eventi al di fuori del controllo in generale che non possono essere quindi gestiti nel dal partner pubblico né privato, deve essere data nel contratto dice l'ANAC una elencazione tassativa perché appunto al di fuori di questi casi poi deve essere deciso chi delle parti sopporta eventuali costi economici e quindi l'ANAC dà questo elenco non esaustivo come scioperi, verificarsi di scioperi che però non dipendano da personale dell'amministrazione o dell'operatore economico, guerre o atti di ostilità, anche azioni terroristiche eccetera, esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche, fenomeni naturali avversi ma solo di particolare gravità ed eccezionalità come quindi esundazioni, siccità, terremoti, epidemie e contagi, indisponibilità di alimentazione elettrica, gas e acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto, cioè diciamo evenienze, questo appunto è stato inserito anche questa causa di forza maggiore su richiesta degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione, ma delimitandola all'ipotesi in cui appunto questa evenienza occorra per cause imputabili a soggetti che comunque siano terzi ed estranei in ogni modo al rapporto contrattuale. E poi impossibilità, anche quest'altro è stato accolto appunto la richiesta degli operatori economi, degli stakeholders, impossibilità, imprevista e imprevedibile per fatto del terzo di accedere alle materie prime necessarie all'erilizzazione dell'intervento, sia ovviamente in fase di esecuzione dei lavori, questo rischio l'ANAC lo pone in fase di esecuzione dei lavori, ma un rischio che si può verificare anche successivamente. E veniamo finalmente alle linee guida, però adesso vedrete che molte cose sono cose che abbiamo espresso anche diciamo discorsivamente e sono concetti che poi vanno trasposti nella tabella che riguarda in particolare la matrice dei rischi, come andremo subito a vedere. Allora, qui attenzione perché questa parte è quella delle linee guida vincolanti, quindi il contratto, innanzitutto l'ANAC dice che il regolamento contrattuale che poi il partner pubblico e privato vanno a sottoscrivere è predisposto dal RUP e proposto dal RUP all'amministrazione e proprio il contratto è il principale strumento che consente il monitoraggio dei rischi, nell'ambito del quale vengono allocati i rischi ed è lo strumento che consente il monitoraggio in fase di esecuzione del contratto, in fase di esecuzione dello stesso contratto. Quindi cosa deve prevedere? In particolare dovrebbe prevedere che le adeguate previsioni in termini, torniamo a ripetere, di livello dei servizi erogati, scusate, e le penali basate su criteri di valutazione oggettivi e certi, mediante l'elaborazione preventiva di key performance indicators determinati in relazione ai contenuti e alle caratteristiche dello specifico contratto e monitorati in corso di esecuzione dello stesso, perché in caso di discostamento deve farsi luogo a un'applicazione automatica delle penali a carico del contraente privato. Ora, in considerazione di questa attività di monitoraggio necessaria, l'amministrazione deve premonirsi di tutti gli strumenti fin dalla fase di programmazione, quindi dalla fase di programmazione dovrà stendere un regolamento contrattuale che recepisca l'allocazione dei rischi come la ritiene più conveniente l'amministrazione, come opportuno che sia, e deve richiedere in sede di bando che l'offerta abbia questo contenuto specifico, cioè il piano economico finanziario deve essere redatto in formato elettronico, in modalità aperta, cioè questo perché molto spesso l'offerta contiene un piano che è in PDF e invece dovrebbe essere in formato Excel con le formule matematiche aperte in modo che l'amministrazione abbia anche la possibilità di fare le simulazioni necessarie a valutare le grandezze economiche. Deve indicare l'offerta e il prezzo, questo nell'ambito del contratto di partenariato, l'importo che il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice, il canone ovviamente, i meccanismi di variazione del canone, quindi vedo che mi scrivono, non so che cosa volete, se conviene procedere nell'esposizione oppure è così che finiamo e poi rinviamo magari le domande a una fase successiva o vogliamo fermarci, vorrei almeno finire questa fase e arrivare alla matrice dei rischi che poi è la cosa più importante da far vedere e quindi ecco vado un po' avanti cercando di lasciare poi un po' di minuti per valutare se le domande possiamo rispondere ora o dobbiamo rinviare. Quindi dicevo, l'offerta deve contenere questi elementi minimi che consentono poi di avere una documentazione, un set informativo che prefiguri tutta e faciliti anche l'attività dell'amministrazione in fase di esecuzione del contratto. Quindi si richiede all'operatore economico privato che concorre di indicare tutti questi elementi e quindi oltre il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell'opera o ridotta quantità e qualità dei servizi resi e quindi in questo caso appunto può essere anche un elemento di valutazione dell'offerta, il tempo di esecuzione della progettazione dei lavori, il cronoprogramma come sappiamo, la durata del contratto, i servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente indicando tutti i livelli delle tariffe sia iniziali da praticare all'utenza e che poi ovviamente deve essere oggetto di riscontro e monitoraggio in corso di esecuzione nel caso di discostamenti dal valore iniziale, livello della qualità di gestione del servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli utenti finali, le eventuali varianti al progetto posto a base di gara, la quota dei lavori che si intende affidare a terzi, eventuali garanzie a favore della stazione appaltante e anche eventuali documenti che siano richiesti dallo specifico settore in cui appunto si effettua l'affidamento da parte delle autorità di regolazione. E quindi questo l'offerta, oltre al contenuto cogente dell'offerta, l'ANAC prescrive anche un contenuto minimo del contratto di partenariato pubblico privato che deve essere posto, che diciamo ha una duplice valenza, perché sia uno schema contrattuale che è posto dall'amministrazione a base di gara e sia è uno schema che è implementato dall'operatore economico in sede di offerta o addirittura sviluppato dall'operatore economico se presenta una proposta al di fuori della programmazione. Quindi il contratto definisce i rischi trasferiti e le modalità di monitoraggio nonché le conseguenze derivanti dall'anticipata estinzione del rapporto contrattuale e dovendo assicurare la permanenza dell'allocazione dei rischi inizialmente stabilita dalle parti. Quindi l'ANAC dice che deve presentare almeno questi elementi il contratto, cioè deve avere e che poi sono gli stessi elementi che erano indicati grossomodo dall'articolo 115 del regolamento di attuazione non più in vigore, almeno in quasi tutte le sue parti, il DPR 207 del 2010, soprattutto per quanto riguarda le condizioni relative all'elaborazione dell'operatore economico del progetto di lavori, le caratteristiche funzionali delle opere o degli impianti, l'obbligo di compiere tutte le attività previste per l'acquisizione delle approvazioni necessarie oltre all'approvazione del progetto, perché ovviamente il rischio amministrativo sì è meglio allocato in capo all'amministrazione, ma il triato deve collaborare attivamente affinché i pareri nulla osta delle altre amministrazioni coinvolte in procedimento della stessa amministrazione partner pubblico possano essere positivamente rilasciati. I poteri e i criteri di vigilanza dell'amministrazione, il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi, il rispetto delle regole previste per il subappalto, le procedure di collaudo, le penali, i termini e le modalità di manutenzione per la manutenzione e la gestione dell'opera e scorriamo in avanti, le tariffe, le modalità e i termini di adempimento di eventuali oneri, garanzie assicurative e tutti gli adempimenti correlati alle modalità di corrisponzione del prezzo non in somma di denaro, ma alla messa a disponibilità di un determinato immobile nella proprietà dell'amministrazione, oppure in caso di conferimento di altro diritto reale su un immobile che deve essere funzionale alla gestione del privato, il piano economico finanziario di copertura degli investimenti, anche le cause e modalità per la revisione, vi dicevo quindi gli indicatori, il corrispettivo per l'eventuale valore residuo al termine del contratto non ammortizzato e le modalità e tempistiche di pagamento di tale valore da parte del contraente subentrante. Quindi nonché deve contenere una matrice dei rischi, questo ultimo. La matrice dei rischi non è altro che una tabella sinottica che dà la possibilità di controllare e di avere una visione completa dei rischi connessi a una determinata operazione in modo tale che si abbia la possibilità di individuare subito cosa consiste il rischio, qual è il contraente in base al quale potrebbe gestirlo meglio e quindi la relativa disposizione contrattuale che è funzionale all'allocazione e alla gestione di quel rischio. La matrice dei rischi deve essere predisposta sin dalla fase di programmazione dell'intervento, quindi da parte del responsabile del procedimento o di altro soggetto incaricato appositamente e sulla base delle caratteristiche specifiche dello stesso contratto. In fase di programmazione è altresì funzionale alla determinazione della convenienza del ricorso al partenariato pubblico privato rispetto a un'altra modalità di affidamento, perché? Perché l'individuazione di tutti i rischi e la quantificazione della probabilità che si accadano e l'incidenza economica degli stessi serve appunto a calcolare il costo dell'intervento realizzato in partenariato pubblico privato a fronte, il costo reale, quindi non solo l'esborso di contributo pubblico, ma anche in termini di valutazione monetaria dei rischi connessi all'operazione rispetto appunto ai rischi che l'amministrazione invece si accollerebbe affidando la realizzazione e poi la successiva gestione di un'opera con contratto di appalto prima di lavori e poi di servizi, senza quindi benefici del bundling, cioè dell'accorpamento delle due fasi. Quindi l'amministrazione che deve fare? Deve fare un po' il risk manager secondo l'autorità e quindi deve al fine di individuare appunto i rischi e ripartirli e collocarli precisamente nella matrice dei rischi, deve identificarli, quindi stabilire quali sono i rischi, valutarne l'impatto in termini economici, quindi sia probabilità che si verifichino, sia quantificazione in termini monetari, dopodiché vedere quali sono i meccanismi che possano mitigare lo specifico rischio e allocarli al partner che sia in grado di gestire meglio questo processo di mitigazione, dopodiché indicare qual è la clausola contrattuale o le clausoli contrattuali, perché vi torno a dire non è solo il contratto principale, ma poi ci saranno anche tutti gli allegati, capitolati prestazionali nella specie, che appunto consentono di trasferire il rischio al partner competente a gestirlo. Ecco, qui vediamo come vi ho riportato la matrice in bianco che ha sviluppato l'ANAC e quindi qui trovate esemplificati tutti, diciamo sistemati in maniera ordinata tutti i rischi che però abbiamo già detto a voce prima, quindi io non ve li sto a rileggere, vi segnalo solo che sono messi in ordine di apparizione, se mi consentite, durante le fasi di sviluppo del progetto, perché abbiamo prima i rischi di progettazione e esecuzione dell'opera, dopodiché seguono i rischi legati alla fase operativa, quindi legati alla disponibilità e alla domanda dei servizi e poi abbiamo tutti quei rischi neutri o trasversali che ci siamo detti prima, commissionamento, amministrativo, espropri, anche il rischio di insolvenza degli utenti per esempio, ma questo appunto dovrebbe essere un rischio che si accolla il partner privato che è responsabile della gestione. Vi avevo fatto un'esemplificazione, siccome la matrice è vuota necessariamente, perché come dice l'ANAC non si può riempire in maniera così, cioè si può mettere, poi ovviamente ci sarà anche la convenzione tipo che è in corso di approvazione per quanto riguarda le opere con canone disponibilità e che sarà una convenzione generica, però se uno vuole fare un esercizio concreto bisogna riferirsi a un caso concreto, giustamente dice l'ANAC e quindi io ho prendendo spunto da documenti che sono stati elaborati da Fin Lombarda, la finanziaria per la regione Lombardia che si occupa anche dell'affidamento dei contratti di partenerato pubblico privato per quella regione, avevo preso un documento del 2015 riguardante una matrice dei rischi base per l'efficienza energetica per gli impianti di illuminazione pubblica, che appunto sono quei contratti in cui normalmente si affida al contraente privato, la progettazione e l'esecuzione di nuovi impianti, interventi di adeguamento ed efficientamento energetico, anche volendo la realizzazione e anche la messa in sicurezza e il contenimento dell'inquinamento luminoso, realizzazione di sistemi di telecontrollo e telerilevamento, erogazione del servizio, volendo anche la fornitura di energia elettrica e la manutenzione sia ordinaria e programmata preventiva, che possono appunto essere gestiti queste prestazioni anche in partenariato pubblico privato, essendo ripagato il partner privato con un canone di disponibilità che copre appunto il costo di questi servizi e a patto però che sia garantito un certo livello di risparmio energetico all'amministrazione. Ecco, quindi vediamo come si può riempire qua, come la riempie Fin Lombarda la matrice dei rischi. C'è un rischio tipico di questo settore che è il rischio di consistenza degli impianti, cioè prima di dare in affidamento l'impianto, prima che il privato presenti la proposta, bisogna vedere effettivamente in che stato sono questi impianti. Il rischio di consistenza è che il rischio che le caratteristiche dell'infrastruttura non siano in linea con l'affidamento in partenariato pubblico privato, oppure perché appunto magari si possono richiedere delle spese di investimento iniziali troppo consistenti, perché magari bisogna rifare gli impianti anziché appunto adeguarli. Normalmente queste valutazioni sono in capo al pubblico, tranne che perché mette a base di gara tutte le informazioni necessarie a far sviluppare la propria offerta agli operatori economici. Ecco appunto in questo caso la mitigazione è che l'APA deve svolgere analisi propedeutiche volte a valutare l'applicabilità del PPP, l'attrattività dell'iniziativa per gli operatori economici e quindi predisponga lo stato di consistenza che possa essere valutato. La progettazione, per esempio gli elaborati progettuali, il rischio di progettazione è quello che gli elaborati progettuali non corrispondano agli standard di servizio richieste, in particolare al livello di risparmio energetico, quindi in questo caso il rischio, le azioni di mitigazione sono sia appunto l'analisi dei consumi, dei costi di gestione che poi sono trasposti sia nei documenti di gara e quindi fino a questa fase l'amministrazione che si assume il rischio, sia dall'operatore economico privato successivamente, perché se fa un'offerta ovviamente poi deve far fede quello che ha presentato e il risparmio energetico deve essere quello atteso e rappresentato nell'offerta, anche se la progettazione non è adeguata. Quindi il rischio di costruzione si verifica, è il rischio appunto come genericamente invece individuato anche prima, quindi effettivamente l'amministrazione deve valutare che l'investimento sia correttamente dimensionato, deve sborsare il contributo pubblico soltanto effettivamente a stati di avanzamento agli lavori e verificando appunto che sia appunto lo stato di avanzamento degli impianti e che siano rispettate le previsioni progettuali, così anche il rischio di collaudo dovrebbe essere sopportato dal partner privato. Le modifiche richieste dall'amministrazione invece appunto dove possono comportare un aumento dei costi o ritardi per la progettazione, ma siano appunto richieste successive che appunto rispondenti solo ad esigenze dell'amministrazione, dovrebbero essere sopportate dal pubblico e possono dar luogo ad esempio a un riequilibrio economico finanziario, ma ovviamente nel caso in cui le richieste incidano effettivamente sul piano economico finanziario e vada a nascostare quelle grandezze di riferimento, quelle grandezze che misurano la sostenibilità finanziaria e la redditività economica dell'opera. E qui appunto questi sono rischi che abbiamo appunto già considerato prima, perché non sono tipici dell'opera, di questo settore, ma di tutte le opere. Quindi andrei avanti, anche questo l'abbiamo trattato. Ecco, quest'altra indicazione utile è che dall'ANAC, è che se l'amministrazione non è in grado di valutare efficientemente questo processo sin dall'inizio, può anche svolgere delle consultazioni preliminari di mercato, come previsto dall'articolo 66 del codice e quindi vedere, insomma, sondare il mercato per vedere se ci sono degli operatori economici in grado di gestire questo determinato affidamento e può anche ricorrere alle consultazioni in fase di gara, in fase di procedura ristretta, come previsto dall'articolo 165,3 del codice e quindi ritarare i documenti di gara e allungare i termini per la presentazione delle offerte sulla base dei suggerimenti pervenuti da parte degli operatori. Altra modalità, dove appunto le caratteristiche giuridiche ed economiche del contratto non siano predefinibili a priori, è ricorrere al dialogo competitivo, che è quella procedura che consiste in un dialogo in cui appunto i documenti a base di gara hanno un livello di approssimazione insomma meno dettagliato rispetto alle altre procedure, essendo poi rimesso ai partecipanti al dialogo la determinazione, in un costante appunto dialogo con l'amministrazione che fissa le regole del dialogo stesso di stabilire le caratteristiche, in questo caso economico-giuridiche penso dell'operazione stessa. Per chiudere vi volevo solo, perché allora su questo è paradossale, perché questo documento magari è più dettagliato, seppure generico come abbiamo visto rispetto alla fase, alla parte non vincolante e poi rispetto a quella della matrice dei rischi, che si dice deve essere presente, vi ricordo, nell'offerta, in fase di pre-programmazione deve essere fatta dal responsabile unico del procedimento, deve essere quindi messa a base di gara, deve essere parte dell'offerta, costituisce elemento di valutazione dell'offerta quindi e deve essere allegata al contratto, ecco rispetto a questo per quanto riguarda poi gli strumenti del monitoraggio l'autorità è molto più sintetica e dice sostanzialmente che il flusso informativo che fa parte integrante del contratto e deve risultare in esso obbligatoriamente, deve contenere di base tutti gli elementi che sono richiesti per il monitoraggio delle opere pubbliche dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 229 del 2011 e che disciplina tutti i dati che confluiscono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche che è istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 193 del 2009. Quindi c'è poi un decreto attuativo di questo articolo 5 che riguarda proprio i dati anagrafici e sono dati di consistenza delle opere in ogni fase di avanzamento e dati finanziari, quindi delle erogazioni finanziarie che si spostano dal settore pubblico al settore privato e tutti questi dati sono racchiusi in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in una tabella esplicativa, poi magari ve la possiamo pure anche questa allegare ai documenti e si fa riferimento di base a quanto richiesto da questo decreto ministeriale di febbraio 2013 del Ministero dell'Economia dell'Economia e delle Finanze e in più facendo riferimento per i contratti di partenariato pubblico privato come prescritto dall'articolo 9, invece ha il flusso informativo che è ricollegato ai dati, ai contratti che sono trasferiti, che sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valutazione degli aspetti sempre di allocazione dei rischi ai fini della contabilità pubblica, dati pure che devono transitare appunto in questo caso dalla Presidenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi trovate i dati, sono questi maggiori sono dati che se c'è di mezzo un'opera pubblica sono già trasferiti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione invece dovrà stabilire cosa confluisce, cosa fa parte del flusso informativo nel caso in cui non ci siano opere ma semplicemente servizi, quindi l'amministrazione qui ha un grosso ruolo e ha autonomia contrattuale, in sostanza l'ANAC dice solo guarda fate riferimento a quei dati lì che sono stabiliti dalla norma, ma poi è l'amministrazione che deve definire nel flusso informativo cosa deve andare a ricadere per sua utilità. Ovviamente il resoconto economico gestionale, ma questi sono elementi che appunto nelle fattispecie contrattuali che erano state esemplificate a livello generale e che come anche poi vedremo penso anche nella bozza di convenzione che sarà sviluppata, curata dalla ragioneria dello Stato, appunto sono comunque elementi che già figuravano nei contratti secondo le indicazioni date dalle buone prassi. Allora io mi fermerai qui perché ho visto che siamo già andati avanti col tempo, siamo arrivati insomma alla fine. Esatto, abbiamo ancora qualche minuto magari per dare un paio di risposte agli utenti, nel frattempo mentre leggi le domande pervenute ricordo a tutti i partecipanti che già da stasera diciamo dalle 17 in poi sarà possibile scaricare sul nostro portale le slide dell'avvocato e anche l'intera registrazione. Adesso vi inviamo il link in chat e potete rivedere i nostri webinar anche attraverso il nuovo canale YouTube dell'IFEL dove troverete tutti i webinar fatti fino ad oggi con anche tutti i materiali. Questo è il link che vedete nella chat. Prego Ilaria, se sei propria. Allora, vedevo che le prime domande attengono non tanto alle linee guida quanto ai procedimenti a iniziativa privata, cioè come si comporta l'amministrazione quando riceve più di una proposta della realizzazione di un'opera. Ecco, in questo caso, anche se non è del tutto pertinente, quindi forse potremmo pure ritornarci in un successivo appuntamento perché è un problema che cominciano ad avere tutti. Allora, ci sono stati casi finiti già davanti al TAR che ha deciso in alcuni casi che comunque l'amministrazione è tenuta a esaminare tutte le proposte stabilendo quale sia fattibile o meno. Però ovviamente si pongono poi dei problemi di tutela della concorrenza. In particolare la sentenza che ho visto io mi pare che fosse del TAR toscana e si diceva, perché l'amministrazione aveva già aperto una proposta e successivamente ne aveva ricevuta un'altra, ma poi aveva valutato fattibile appunto la prima e in questo caso il TAR ha riconosciuto che fosse legittimo il comportamento dell'amministrazione perché comunque aveva valutato ed escluso motivatamente la seconda proposta andando avanti con la prima. Alcune amministrazioni si stanno attrezzando un'altra modalità e per esempio fare un avviso per manifestazioni di interesse e poi stabilire quali sono i criteri in base ai quali l'amministrazione può valutare o meno le proposte. Però certo si ripropone un po' quello che era il vecchio procedimento in questo modo, però almeno ci si mette un po' a riparo sotto l'aspetto della tutela della concorrenza. Alcune amministrazioni stanno proprio facendo dei regolamenti per gestire queste procedure, però appunto sono aspetti che bisognerebbe valutare caso per caso e poi magari affrontare in un altro appuntamento. Allora, un altro problema dedicato è questo, quindi le prime due mi sembrano abbastanza simili, queste sia per l'illuminazione pubblica che l'altra che è più generica, poi magari se c'è bisogno diamo delle indicazioni e vediamo come ci si può comportare caso per caso. Poi c'è il monitoraggio per i contratti già in essere, questo è un punto in cui l'ANAC non è chiaro, come vi dicevo precedentemente, infatti anche voi sentite che non è chiaro, però bisognerebbe valutare, ci sono dei contratti affidati in tempo risalente, perché ovviamente è vero che le linee guida si applicano a partire dalle procedure poste in essere dopo l'entrata in vigore, ma è pure vero che l'obbligo di monitoraggio sussiste da sempre sui contratti e nei contratti ad esecuzione continuata e periodica è ovvio che l'amministrazione svolge il controllo con le modalità stabilite dalla legge vigente a quel momento, quindi è vero che nei documenti di gara non ci sarà stata la matrice dei rischi o altri elementi magari di misurazione, però bisogna vedere, le performance comunque devono essere mantenute entro i livelli prestabiliti, se comunque siano stati stabiliti. Infatti l'ANAC diceva pure che si può modificare in qualche modo il regolamento contrattuale per permettere di verificare l'andamento della gestione, pure questo è un aspetto che bisogna studiare perché bisogna capire cosa proporre al privato, vero è che comunque il monitoraggio va fatto. Quindi, vuole sapere se il monitoraggio deve essere fatto anche tramite osservatori regionali? Allora per questo non ho detto nulla, però è ovvio che le amministrazioni, non so per esempio se c'è un soggetto aggregatore a livello regionale, potrebbe ben essere regolamentata anche questa attività di monitoraggio, anche perché appunto la legge e il decreto attuativo riguarda gli investimenti principalmente in opere pubbliche, quindi ci sono tutta una serie di contratti che rischiamo di rimanere fuori. ecco, questo è quindi, insomma, può essere, questo non è cogente, ma anche gli osservatori regionali possono, questa è una valutazione che bisogna fare a livello territoriale, locale. Poi una valorizzazione del diritto di superficie in sede di gara da cedere come contributo pubblico. Ma diciamo, ecco, qui si chiede se da cedere al concessionario come contributo pubblico prima del contratto, il concessionario chiede di non essere segnatario di tale diritto, ma di avere il terreno esclusivamente in uso. Si configura una modifica dell'equilibrio economico finanziario nel PEF e va valutato se questa grandezza era stata inserita nel PEF e con quale modalità. Bisogna vedere se si discosta appunto, se l'equilibrio economico finanziario così come misurato in base ai dati iniziali ha subito una flessione e se questa flessione incide tanto da poter, da dover rivedere, perché anche la misura dell'incisione sulle misure dell'equilibrio economico finanziario va stabilita, non è che siccome, cioè deve intaccare appunto i valori di riferimento e in determinate misure. Poi nel caso di finanza di progetto con progetto di fattibilità presentato da un proponente, il primo rischio a chi ha allocato il rischio di progettazione? Il rischio di progettazione nel momento in cui l'amministrazione fa proprio il progetto e potendo essere l'affidatario del contratto anche un soggetto terzo, non l'originario presentatore del proponente, l'amministrazione deve valutarlo correttamente il progetto, quindi va stabilito in base, insomma va valutato tutto caso per caso, però se sono richieste varianti che non derivano da errore di progettazione, in quel caso ovviamente se l'amministrazione che decide perché cambia idea, non perché il progetto non è ben sviluppato, allora sarà dell'amministrazione che fa proprio il progetto nel momento in cui lo inserisce negli atti di gara. Come è possibile nominare il responsabile dell'esecuzione per la durata di 30 anni? Beh, ma lì c'è un ufficio, c'è un responsabile, ovvio che se uno è molto bravo ma sta per andare in pensione organizzerà l'ufficio, si cambierà il responsabile e si comunicherà al contraente privato che è cambiato il soggetto di riferimento. Come funziona il CUP e il monitoraggio? Allora vi dicevo, questo provvedimento adesso, Francesco facciamo in tempo se lo cerco su internet e glielo metto nella chat, oppure glielo diamo in un altro momento questo decreto ministeriale dove sono definiti i termini del monitoraggio. Allora, vista l'ora stiamo andando oltre il nostro classico, direi che possiamo farglielo avere in un secondo momento, gli forniremo il link. Vediamo se c'è qualche altro. Chiedere supporto. Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, è una struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il DIP è il dipartimento all'interno del quale si trova il Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica. E poi, qui però questo mi sembra troppo peculiare appunto della finanza di progetto e iniziativa privata, questa domanda. Dunque, nel caso di finanza di progetto e iniziativa privata, qual è il momento di sottoscrizione della convenzione, contratto alla giudicazione, nell'approvazione del progetto definitivo al rilascio del titolo? No, il contratto si sottoscrive sempre alla fine dell'aggiudicazione, cioè l'iniziativa privata inizia con una proposta di un operatore privato che poi però è valutata dall'amministrazione e poi inserita come iniziativa negli strumenti di programmazione dell'amministrazione, quindi la sottoscrizione del contratto vero e proprio all'esito della gara di evidenza pubblica. Va bene, quindi questa mi sembra che era l'ultima domanda? Sì, sì. Benissimo. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo webinar. Vi ricordo, come avevo detto prima, che il materiale didattico sarà a vostra disposizione, diciamo, nel tardo pomeriggio. Ringraziamo l'Avvocato Ilaria Paradisi per essere stata con noi, ringraziamo tutti i partecipanti di questo webinar. Vi auguriamo un buon 25 aprile, domani è un giorno di festa, per cui ci rivediamo direttamente il 26. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Grazie mille. Grazie.